Siamo qua in Corso Como 10, oggi è venerdì 15 aprile e siamo nello stand di Freitag, che è una marca che fa borse con materiale riciclato, in particolar modo con i teloni dei camion. Qua vicino a me c'è questo animaletto fatto proprio di una sorta di plastica e vediamo che da quest'anno Freitag ha voluto fare un tributo agli animali che vengono purtroppo schiacciati dai camion e quindi tutti questi animaletti, come possiamo vedere dalle borse, vengono poi appesi in ognuna delle bambi. Ecco, ora io piegherò l'animaletto e mettendolo sotto questo macchinario, io posso, facendo in questo modo, posso, schiacciando due bottoni, fare l'effetto di quando il animaletto viene schiacciato, quindi verranno qua lasciate le impronte del camion. Ok, come possiamo vedere, ecco le impronte ed ecco il nostro animaletto pronto per essere attaccato alla nostra borsa. Poverino.